Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video vi annuncio con piacere il mio secondo giveaway. Iniziamo dalle regole. La prima regola per partecipare è essere iscritti al mio canale, quindi se ancora non l'avete fatto cliccate qui sotto al video sul pulsantino rosso con scritto iscriviti. Dopodiché dovrete mettere mi piace a questo video e metterlo tra i vostri preferiti cliccando su aggiungi a e poi video preferiti. Inoltre dovete essere residenti d'Italia oppure avere un recapito italiano per la spedizione dei premi e commentare questo video per un massimo di tre volte durante tutta la durata del giveaway proprio sotto a questo video. Inoltre se volete aumentare le vostre possibilità di vincere potrete invitare i vostri amici a partecipare a questo giveaway. Questo giveaway durerà tutto il mese di febbraio, quindi avete tempo un mese per partecipare. Dopodiché il vincitore verrà estratto a sorte proprio con un'estrazione che farò manualmente. Farò un video nella quale vi mostrerò l'estrazione del vincitore e ci sarà per ogni partecipante un bigliettino con il proprio nome. Se invece volete avere più bigliettini con il vostro nome in modo da avere più possibilità di vincere dovete cliccare su questo link che troverete poi anche sotto nel box informazioni e proprio cliccando su questo link andrete in una pagina del mio blog dalla quale potrete personalizzare il vostro messaggino e invitare i vostri amici a partecipare. Se i vostri amici cliccheranno sul link del video allora voi acquisirete automaticamente un'altra possibilità di vincere, cioè un altro bigliettino con il vostro nome, anche se i vostri amici decideranno poi di non partecipare al giveaway. Dopo la fine del giveaway quindi scoprirete chi è il vincitore di questo giveaway tramite un video che pubblicherò e il vincitore vincerà ben. 70 palloncini rotondi di colori misti, 30 palloncini modellabili ed una pompetta per gonfiarli. E con questi palloncini potrete fare ad esempio questa bella colonna di palloncini che vedete qui al mio fianco. Direi che vi ho detto tutto quello che c'è da sapere, comunque vi scrivo tutte le informazioni qui sotto nel box informazioni e buon giveaway a tutti! Ciao ciao!